Io adesso introduco la seconda sezione, questa prima sezione era essenziale, fondamentale appunto anche per la questione relativa come gli organi di stampa affrontano la morte in questo specifico ambito che abbiamo avuto la possibilità di analizzare ora e adesso entriamo in una questione che è in continuità con quanto abbiamo già cominciato ad annunciare ieri e viene totalmente inverato in questa seconda sezione dell'ultima giornata, cioè vale a dire ieri abbiamo cominciato a parlare, abbiamo indiziato il tema dell'anima come tema relativo a che cosa intendiamo per identità e facendo riferimento all'indicazione di Emanuele Severino abbiamo cominciato ad introdurre il tema dell'immutabile, cioè vale a dire identità come ciò che non cambia all'interno di un fluire che è la trasformazione degli eventi, dell'esperienza della vita innanzitutto di quella realtà che viene considerata materiale che è il corpo. Bene, abbiamo anche indiziato molto rapidamente che cosa è accaduto nel Novecento dopo le catastrofi dell'Ottocento che hanno inteso smantellare l'attentibilità di qualsiasi fondazione metafisica di quell'immutabile che è l'identità dell'anima e che sopravvive alla morte e nell'inconscio diciamo sociale del senso comune che peraltro non accede interamente e pienamente a queste categorie che sono poi quelle che muovono la storia, cosa voglio dire, la persona, il pensatore profano non ha cognizione della crisi di queste categorie del rimedio, non ha cognizione della crisi del disincanto che è stata consumata interamente nel Novecento, non sa quali sono le categorie che confliggono tra loro per cui l'atto di fede rispetto a una eventuale immortalità è un atto di dubbio sostanzialmente non più come invece dicevamo ieri una risposta certa così come veniva intesa dai Santi Medioevali e da tutta la cultura che fondava la base delle religioni abramitiche su un pensiero metafisico epistemico, così lo definisce Emanuele Severino. Il Novecento è la reinvenzione di linguaggi alternativi rispetto alla crisi del pensarsi immortali veritativamente. La cultura del dubbio per un verso è la cultura del restituiamo ad ognuno di noi la dignità dell'essere individuo che non abita uno spazio etico assoluto ma nello stesso tempo abbandona l'individuo rispetto ad una serie di incertezze perché non necessariamente è così esplicito e chiaro quali siano i problemi e le categorie dicevamo che appunto sono entrate in crisi con il pensiero del disincanto novecentesco. Dove siamo oggi? Oggi siamo con il nuovo millennio dinanzi ad un ulteriore aspetto di radicalizzazione e coerentizzazione del pensiero del disincanto. Già tutta la storia della psicologia abbiamo accennato alla psicoanalisi come spazio di ricerca di un linguaggio esistenziale capace di restituire ad ognuno la capacità eroica perché di questo si tratta di dare senso all'esistenza una volta messa gravemente in crisi e in una condizione di dubitabilità la certezza estrema di poter esistere oltre la morte grazie ad alcuni principi non è solo quello di anima ovviamente ma ritengo che quello di anima sia il concetto più cogente da chiamare in causa qui oggi per chi è stato sostituito nel novecento dai concetti di psiche e poi di mente che cosa accade con la fine del novecento e questo nuovo millennio che mente è definitivamente definita come qualcosa di assolutamente riducibile a qualcosa di materiale cioè a quel corpo e a quella parte del corpo che è il cervello. Tutti coloro che non maneggiano argomenti di filosofia di epistemologia vale a dire di quei principi che orientano la ricerca scientifica tutti coloro che non hanno la diciamo così avuto l'occasione la fortuna di voler entrare nel merito di questo dibattito ignorano dunque che nel senso comune quando diciamo questa persona ha dei problemi psicologici dei problemi mentali nel dire questa persona qualcosa che non va nel cervello sta assumendo questa identità radicale tra dimensione psichica mentale che un tempo era quell'immutabile che accedeva in termini di partecipazione all'assoluto divino sta assumendo che mente e psiche è materia. Perché Emanuele Severino oggi? Perché è esattamente quel pensatore che mette radicalmente in discussione che alcunché della coscienza possa essere ridotto ad alcunché che venga considerato cosa ma non perché la coscienza non possa essere cosa semplicemente il suo discorso è quello del dire coscienza è altro da cosa è una contraddizione affermare che A è B se stabiliamo cosa è A non possiamo dire che A e se stabiliamo che A non è B non possiamo dire che A è B questo passaggio logico che sembra tanto la palissiano quanto ingenuo sta richiedendo un'infinità di confronti in ambito epistemologico perché invece il mentale sembra in termini per lo meno empirici potrebbe essere totalmente ridotto al materiale cerebrale ma Severino indica l'impossibilità della cosa quindi lasciando da parte questo livello di contraddizione sostanzialmente ritiene che l'autentica la più radicale contraddizione che caratterizza quel pensiero assolutamente razionale che è quello occidentale quindi il pensiero più razionale questo è ormai stabilito anche in termini gnoseologici da più studiosi e ricercatori cioè vale a dire è quel pensiero che assumendo tre principi fondamentali non contraddizione se dico A non sto dicendo il contrario di A identità se A è A non può essere B terzo escluso se sto dicendo che A è A e non è B non sto dicendo non si può dire qualcosa che sia di mezzo tra queste due asserzioni che cosa vuol dire tutte le altre culture sono invece le culture protologiche che assumono in qualche misura più o meno implicita la possibilità della contraddizione intrinseca all'interno delle proprie asseverazioni il pensiero mitologico è caratterizzato per esempio da questa struttura di fondo e dunque da un sincretismo sostanziale il pensiero occidentale in quanto analitico è un pensiero rigorosamente logico ma dice Severino è anche il pensiero che avrebbe voluto essere questo e in verità è colui quel grande pensiero che si è pensato immediatamente grande ma si è immediatamente tradito cioè è stato incapace di pensarsi secondo questi tre fondamentali principi dunque il pensiero è la cosa che è il diveniente è ciò che diventa niente ed è l'impossibile che l'essere sia niente in alcun istante in alcun istante già l'errore fondamentale il tradimento fondamentale del principio di contraddizione indica Severino è avvenuto con Aristotele ancorché nell'indicare il principio di non contraddizione stabilisce che questo sia dipendente dal principio del tempo inteso come quell'essere che esiste nel mondo nel momento in cui è vale a dire assumere che l'essere sia niente concetti tutti estremamente complessi ai quali vi rimando e ovviamente non ho la pretesa di essere esaustiva in ciò che sto dicendo ma perché Severino oggi? proprio perché la sua indicazione è l'indicazione della necessità dell'eternità quindi dell'essere già da sempre salvi quindi della possibilità di pensarsi al di là di qualsiasi oscillazione con il niente dunque l'illusione di essere mortali e quell'inconscio che ci abita per cui siamo convinti che l'essere cervello della nostra coscienza significhi l'essere a tempo per il tempo che è e dunque destinata al niente poiché comunque le religioni al proprio interno sono autocontraddittorie per lo stesso principio nichilista ebbene proprio per questo ritengo che possa essere interessante ascoltare una voce di così alto livello rispetto alla quale si stanno confrontando numerosi pensatori e in particolare che si confronti con i neuroscienziati di questa sezione però voglio mettere innanzitutto in evidenza una cosa eccezionale Ander Eklund è un ricercatore che proprio all'interno e nell'assunzione di quei paradigmi di cui abbiamo parlato voi sapete che le tecniche di neuroimmagine sono le tecniche vincenti rispetto al paradigma riduzionista mente uguale cervello ovvero cosa materia Ander Eklund è esattamente colui che dice ma attenzione perché c'è qualcosa che non funziona i suoi articoli siamo nel 2012 e 2016 hanno prodotto una vastissima eco ed ecco che appunto la proposta che vogliamo fare questa mattina è di ascoltare questi neuroscienziati che sono portatori delle più grandi rivoluzioni in campo diciamo della ricerca sul che cosa significa funzionalità e relazione tra ciò che riguarda la nostra coscienza la nostra mente, i funzionamenti mentali e quell'apparato estremamente complesso che è ciò che sta nella scatola cranica bene, costoro che sono i vincitori in termini scientifici la pubblicistica neuroscientifica è una pubblicistica vincente e però proprio all'interno di questa comunità c'è anche quella grande capacitabilità che è tipicamente scientifica che è quella di mettersi in questione quindi questa mattina abbiamo sicuramente la possibilità di ascoltare un grandissimo dibattito livelli estremamente elevati di confronto e assolutamente attuali grazie a tutti